Allora, sono i 32, direi che cominciamo, tanto comunque appunto faccio un'introduzione e chi poi si collega, intanto se io ho già terminato può sentire direttamente Chiara che l'hospite, diciamo, è l'attrazione assieme a Rossella e assieme a Fabiana della giornata dell'appuntamento. Allora, io sono Martina, mi occupo della comunicazione, della raccolta fondi di The Good Lobby, che è un'associazione che è nata a Bruxelles qualche anno fa e che invece è nata in Italia esattamente un anno fa, abbiamo compiuto un anno qualche giorno fa. In realtà, poi The Good Lobby è eredita in Italia l'esperienza di un'altra associazione che si chiama Riparte il Futuro, si chiamava, che ha lottato per tanti anni contro la corruzione attraverso campagne digitali non solo e per la trasparenza. Queste sono delle missioni che ci portiamo avanti anche nella nostra attività con The Good Lobby, quindi sicuramente continuiamo ad avere questi obiettivi, però abbiamo ampliato quelli che sono i nostri scopi e vogliamo sempre di più andare anche alla radice di quelle che sono le cause della corruzione, tutti quei fattori che permettono alla corruzione di proliferare, per cui vogliamo coadiuvare, aiutare la società civile a fare in modo di essere più rappresentata nei processi decisionali pubblici e quindi fare in modo che conti davvero attraverso sempre attività di campaigning, abbiamo diverse campagne attive, una per la trasparenza dell'attività di lobbying sul conflitto di interessi, attività di formazione come queste che appunto stiamo portando avanti con questo ciclo di workshop, un'attività che noi chiamiamo di incubazione o matchmaking in cui di fatto mettiamo in collegamento attivisti, organizzazioni della società civile con dei volontari pro bono del settore legale, ma non solo, che sono disposti ad aiutare le organizzazioni e gli attivisti nelle loro campagne, campagne che ovviamente hanno uno scopo di avanzamento, di impatto sociale, sono finalizzate a proteggere il bene comune e l'interesse pubblico e poi c'è tutta l'attività di comunicazione che è trasversale a queste invece tre altre aree di cui vi ho appena parlato. Venendo invece a questo ciclo di workshop, fuori dalle bolle, perché l'abbiamo chiamato così, perché oramai è un termine sempre più utilizzato, quella di filter bubble, che sta ad indicare questa specie di cappa che ci avvolge tutti e che fa sì che ci confrontiamo, tendiamo a confrontarsi sempre più spesso con persone che la pensano come noi, un po' perché questa è nella naturale tendenza degli esseri umani, un po' perché viviamo in un'epoca digitale in cui anche gli algoritmi dei social network attraverso i quali comunichiamo sempre più costantemente, enfatizzano questi filtri, cioè li rendono ancora più persistenti e pervasivi. Vogliamo però cercare di capire come fare andare al di fuori a bucare queste bolle per creare delle società meno polarizzate e più poese, in cui le persone sono in grado di comprendersi e non solo attaccarsi su delle tematiche che potenzialmente sono divisive, come ad esempio quella dell'immigrazione, ma non solo, che negli ultimi anni ha visto degli scontri accesissimi appunto fra quelle che sembrano essere due fazioni, che però poi, e questo sarà diciamo anche quello che ci aiuterà a fare chiara, non si tratta di due fazioni così monolitiche, ma ci sono tanti comunque invece parti della società che hanno magari una visione non così netta, non così schierata, che possono essere approcciate per cercare di fare in modo che ci siano invece dei messaggi più legati a valori come l'empatia, l'accoglienza, l'inclusione, che abbiano, diciamo, l'attenzione che meritano e anche l'accoglienza che meritano da parte della società civile. Questo percorso è cominciato nel 2019, ma ancora prima per tutta l'attività di ricerca, la parte di formazione del 2019, è andato fisicamente in due città, quindi siamo stati a Trento e poi a Ferrara, che è anche la città da cui vi parlo io in questo momento, saremmo dovuti andare anche in altre città, Trieste, Padova e Bari e poi è arrivata la pandemia che ha un po', come dire, sconquassato i piani di tutti e quindi siamo un po' online a parlarne. Questo è il primo appuntamento che ha lo scopo di inquadrare il fenomeno, cioè di capire appunto qual è la percezione degli italiani rispetto al fenomeno della migrazione, secondo questa ricerca che Chiara ha contribuito a condurre qualche anno fa, anche alla luce di aggiornamenti dovuti alla situazione evoluta e alla pandemia, magari se c'è qualche informazione in più, e poi con Fabiana Zollo, che è una ricercatrice della Caffa Oscari, andremo a capire se ci sono forme di giornalismo che sembrano acuire la polarizzazione, quali invece potrebbero mitigarla. Questo ci serve appunto per capire il contesto in cui ci muoviamo. Negli appuntamenti successivi, cioè nel secondo appuntamento, andremo più a capire come si può comunicare, quali sono degli strumenti, quali sono dei concetti chiave per comunicare con persone appunto con delle odies, con dei pubblici che non sono per forza appunto corrispondenti a noi, agli amici che frequentiamo, diciamo alle persone che la pensano come noi, e lo faremo con Dino Menduni, che è un comunicatore politico, è socio dell'agenzia Proforma, che è piuttosto conosciuto nell'ambiente, e poi con Marika Surace, che è una comunicatrice strategica, che ci guiderà alla scoperta di questo kit, che si chiama Narrative Change, con tutta una serie di strumenti proprio per capire come approcciare, diciamo, le persone. Nel terzo appuntamento andremo invece a capire come organizzare, diciamo, i rudimenti, insomma quelli che possono essere i concetti chiave dell'organizzazione di una comunità, di persone appunto che sono disposte a mobilitarsi per la nostra causa, per la casa in questo caso, per l'accoglienza, per appunto per la maggiore inclusione, o anche per altre, e poi anche capire come ci si può approcciare invece a livello di dialogo, di confronto con persone che non la pensano come noi, attraverso un'esperienza concreta inglese di un'organizzazione che si chiama Hope Not Hate. Infine, nel quarto appuntamento andremo sempre su dei casi specifici, dei case study, con Welcome in American e David Hubel, quindi andremo ad Oceano, saranno due appuntamenti in inglese, e torneremo sul kit di Narrative Change per approfondirne alcuni aspetti. Detto questo, appunto, ho già parlato anche abbastanza, lascio la parola a Chiara Ferrari, che così ci può raccontare di questa ricerca molto interessante e fondamentale per il lavoro appunto che vogliamo fare. Grazie dell'ascolto. Grazie Martina, buonasera a tutti. Io sono Chiara Ferrari, lavoro in Ipsos, dove dirigo il team di ricerca sociale e politico-elettorale. Anche se per la parte politico-elettorale lascio volentieri sempre che Nando Pagnoncelli si faccia avanti i racconti, così è un tema molto più conflittuale. Condivido subito il mio schermo, si vede? Sì, grazie. Dicendovi intanto di cosa si tratta. Questo è un lavoro che noi abbiamo fatto alla fine del 2017, favorito da The Social Change Initiative, che è una fondazione che si occupa di promuovere il cambiamento sociale e in partnership con More in Common, che è un'agenzia che si occupa di comunicazione per la composizione delle differenze. Lo dice molto bene il loro nome, More in Common, cercano i punti in comune, cercano i punti di contatto tra culture, fazioni, eccetera, per comporre le diversità. La curiosità di The Social Change Initiative e di More in Common era a proposito di atteggiamenti rispetto a immigrati e rifugiati in una serie di paesi europei e negli Stati Uniti. L'Italia fa parte di questo puzzle, abbiamo lavorato anche in Germania, in Francia, in Grecia e oggi vediamo i risultati dell'Italia. Partirei dandovi un momento allo scenario in cui abbiamo raccolto i dati, proprio perché lo studio non è recentissimo, anche se premetto che di fatto dovessimo rifare oggi questa fotografia, probabilmente troveremmo piccole differenze, magari alcune accentuazioni, perché quello che abbiamo cercato di cogliere con questo lavoro sono i tratti valoriali degli atteggiamenti e quindi come potete immaginare non è facile scardinare una cultura e dei valori in un tempo così breve come questi pochi anni. Poi parleremo un pochino dell'effetto Covid che però per fortuna non ha nemmeno tanto cambiato proprio il paesaggio complessivo. Scenario del 2017 era uno scenario che è tuttora vero per l'Italia, che è un paese dove nascono pochi bambini, dove le persone invecchiano e dove l'aspettativa di vita è sempre più elevata, dove la popolazione e soprattutto quella diciamo autoctona tende a calare, peraltro in controtendenza rispetto diciamo alla popolazione mondiale che invece cresce, dove il livello di istruzione è prevalentemente medio e basso e più basso della media europea, della media dei paesi Ocse, per cui qui ci sono alcuni dati che possono essere interessanti da usare come riferimento. In Italia solo il 19% degli adulti tra 25 e 64 anni ha una laurea, quindi molti molti meno che la media dei paesi Ocse. Tra i ragazzi giovani questa percentuale sale, ma non in maniera così significativa come sarebbe giusto aspettarsi e quindi i giovani sono tendenzialmente più laureati, ma sono anche meno occupati, come sappiamo molto bene. Altro tema che secondo noi dà conto di una serie di incomprensioni o comunque di difficoltà della popolazione italiana comprendere la complessità del mondo che ci sfida e che quest'anno ci ha sfidati in maniera ancora più incisiva è il fatto che un terzo degli italiani tra 16 e 65 anni è etichettato come analfabeta funzionale. Questo significa che sebbene in Italia ormai tutta la popolazione abbia avuto accesso a un minimo tipo di scolarizzazione fino ai 13 anni, fino a 10 anni, le persone molto molto anziane, però poi fino ai 13, 14 anni, quelli della mia età, ma adesso fino ai 16 anni, man mano che si è alzato l'obbligo scolastico, analfabetismo funzionale in realtà ha a che fare con una capacità di gestire la comprensione dei testi, diciamo, di media complessità e quindi che non siano la frase minima, ma anche la frase minima. Di fatto c'è una percentuale del paese che ha difficoltà a capire il bambino gioca con la palla e a restituire questo concetto con parole proprie. Questo quindi vi dà conto di come le persone che sono afflitte appunto da questa pochezza di strumenti culturali si possa sentire frustrata e quindi poi anche in certi casi rabbiosa nei confronti di chi comunica concetti troppo complessi e di chi comunica con magari toni che possono sembrare per esempio sprezzanti o condiscendenti. Questo è un primo piccolo segnale che vi do, credo che lo affronterete anche con degli altri relatori, ma di fatto questo è una delle grandi barriere nella comunicazione, soprattutto quando si tratta di comunicare concetti appunto un po' controversi come può essere il concetto dell'immigrazione. nel 2017 stavamo uscendo, vedendo i primi segnali di uscita che poi sono conclamati in modo più concreto in realtà nel 2019 subito prima che il Covid ci mettesse un altro stop alla crescita economica, una crisi economica ultradecennale. Un clima sociale quindi andando ad imbuto sostanzialmente connotato da incertezza, da insicurezza con una percezione di peggioramento costante di qualità della vita, in particolare di grande differenza di percezione della qualità della vita tra le diverse aree del paese. Il nostro è un paese che, questo è un tipo di misurazione che noi facciamo da tantissimi, da più di 15 anni, quasi da 20 anni di percezione della qualità della vita e c'è una costante differenza enorme e significativa tra le regioni del nord del paese e le regioni del centro ma soprattutto del sud del paese. Un atteggiamento di sfiducia nel futuro del paese e soprattutto una fortissima sfiducia nelle istituzioni che poi nel 2017 in particolare con una serie di eventi dalla crisi del Mediterraneo, al decreto Minniti sull'immigrazione, alla richiesta della firma del codice di condotta ha particolarmente colpito le organizzazioni non governative e per esteso tutte le organizzazioni del terzo settore. Erano partite le prime dichiarazioni già prima dell'estate quando il nostro attuale ministro degli esteri aveva definito le organizzazioni operanti in area SAR i taxi del mare e da lì durante tutto quell'anno è stato un crescendo di attacchi che sono culminati poi nell'autunno quando con grande anticipo sei mesi sulla partenza delle elezioni politiche una parte politica in particolare ha deciso di fare dell'immigrazione incontrollata una delle bandiere della sua campagna elettorale anticipata, inutile che vi faccia nomi e cognomi perché ce li abbiamo molto ben presenti. Che cosa abbiamo imparato da questo lavoro? Allora abbiamo trovato delle conferme quindi soddisfazione diffusa, sfiducia nell'elite, preoccupazioni molto forti per il tema dell'occupazione o meglio della disoccupazione e una forte rabbia nei confronti di questi confronti di questo nemico un po' invisibile che è la globalizzazione che tutti gli intervistati conoscevano bene e a cui imputavano gran parte delle sventure perché dentro alla globalizzazione si tendeva a fare convergere tutti quei segnali negativi tra le delocalizzazioni e appunto i flussi migratori e mai o molto di rado a valutarne invece quelli che sono gli aspetti positivi o comunque gli aspetti di cui tutti abbiamo goduto come un abbassamento generale dei prezzi, l'accesso a servizi, se pensate alle linee aereo lo costa, servizi e a tipologie di servizio che una volta erano per pochi quindi se volete la parte di democratizzazione dell'accesso a certi beni e certi servizi che è arrivata con la globalizzazione tende ad essere come dire dimenticato o comunque superata dagli aspetti negativi e qui si diceva la difficoltà per gran parte di noi di mettere insieme questa complessità e capirla. Un'Italia che ci viene restituita come un paese debole, arrabbiato, diviso quindi con una percezione già di polarizzazione nella descrizione del paese soprattutto abbandonato dalla sequenza dei decine e decine di governi che sono susseguiti dal referendum monarchia repubblica oggi e soprattutto la cenerentola quando si tratta di Unione Europea quindi anche molto maltrattati, distrattati dai famosi poteri forti dell'Europa quindi dall'asse franco tedesco eccetera. Tutto questo in cosa va ad atterrare? In timori per la sicurezza, ovviamente questo non vale per, adesso poi lo vediamo, non vale per l'intera popolazione italiana però questi sono i segnali più forti quindi timori per la sicurezza, la percezione della perdita di controllo dei confini e un'incapacità di chi si deve prendere cura di noi, quindi istituzioni nazionali, istituzioni sovranazionali, l'Europa grande nemica nella gestione del fenomeno migratorio quindi noi che siamo paese di frontiera rispetto agli ingressi e che lo eravamo stati proprio nell'anno e in quegli anni in cui abbiamo fatto questa raccolta dei dati ci sentivamo davvero abbandonati e invasi in qualche modo. Quando dal fenomeno migratorio però nelle nostre interviste si passava a parlare di migranti, la cosa che ci è sembrata molto interessante è cogliere questo sentimento di sostanziale apertura nei confronti delle persone migranti e già qui vi do un altro elemento, cioè un conto è parlare di immigrazione, un conto è parlare di migranti, quindi il vicino è lontano, l'astratto è il concreto, quindi gli italiani sono avversi all'immigrazione, non sono così graniticamente e monoliticamente avversi alle persone che arrivano nel nostro paese. Peraltro ruolo non indifferente è quello dell'educazione religiosa che una gran parte di noi ha comunque ricevuto, che Kenny abbia fatto poi nel corso della sua vita e nel crescere, noi abbiamo comunque delle radici cristiano-cattoliche che qualcosa hanno lasciato in moltissimi di noi e quindi l'idea di avere una responsabilità verso le persone più fragili, comprese ovviamente migranti e rifugiati, viene fuori, viene a galla in tutto il lavoro. Perché abbiamo deciso di chiamare Italia frammentata al nostro studio? Perché facendo delle analisi statistiche apposite che andavano a cercare dei gruppi, delle tribù di persone che potevano essere considerate tra loro simili e diverse da quelle che costituivano altri gruppi, l'Italia a differenza di tutti gli altri paesi europei, ma anche degli Stati Uniti, ha dato come risultato sette gruppi che qui vedete descritti e però vi farei concentrare su quel 48% fatto dalla parte centrale dei nostri segmenti, delle nostre tribù, che sono quella parte a cui Martina ha accennato, cioè quello che in gergo si chiama il centro fluido, che è un quasi metà degli italiani che in qualche modo sono un po' tesi, come in un gioco di tiro alla fune, tesi tra i due estremi che vedete, che vanno dall'estremo di sinistra ad apertura di quelli che abbiamo definito italiani cosmopolitici o cattolici o umanitari, fino all'estremo opposto di totale chiusura dei difensori della cultura se non di quelli proprio, diciamo, xenofobi della prima ora. Una circa metà che si può comparare con circa una metà anche dei francesi che si colloca in questo centro fluido, diciamo, questo centro incerto, mentre in Germania i segmenti più incerti vanno a coprire quasi sei, cioè un po' più di sei tedeschi su dieci. Comunque vedete che non ci sono grandissime differenze. Se non fosse che in Italia c'è maggiore granularità di atteggiamenti e questo devo dire che nel paese dei, non so mai se, cento o mille campanili ma insomma ci sta. Siamo tanti, siamo diversi, siamo molti, molto concentrati in un territorio piccolo ma un territorio che più diverso non si può immaginare. Quindi la diversità in fondo è anche una delle nostre caratteristiche. e quindi andiamo veloci sui segmenti, diciamo, estremi, gli accoglienti, partendo dai cosmopoliti che sono in fondo anche un po' li potremmo definire i privilegiati, si considerano cittadini d'Europa del mondo, questo vuol dire che hanno potuto viaggiare, hanno in qualche modo introiettato un'idea di immigrazione come un'opportunità, quindi un bene per l'economia, per la vita culturale del paese. Non possono permettersi di vedere le persone straniere come dei simili, questo perché gli stranieri non minacciano una loro condizione e tendenzialmente sono persone che appunto stanno, diciamo, bene nella vita, non hanno grossi problemi economici. In questo gruppo, dal punto di vista, diciamo, descrittivo, troviamo persone sia giovani che vecchie, tendenzialmente laiche, che si autocollocano a sinistra, a centrosinistra, che sono difensori dei diritti umani e che si sentono vicini alla missione, alla visione proposta dalle organizzazioni non governative e comunque del terzo settore. C'è poi un altro segmento che invece è più connotato per un tratto confessionale specifico e quindi sono quelli che sono allineati alle posizioni del Papa, sono convinti che la Chiesa debba avere un ruolo di impulso nell'accoglienza dei migranti, hanno anche un'immagine del paese migliore, più positiva degli altri segmenti. Quindi anche questi, come gli italiani cosmopolitici, raccontano di un'Italia che non è l'Italia di chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Questo ha molto a che fare con il lavoro che poi farete nelle prossime sessioni perché bisogna sempre tenere conto della condizione, diciamo, dell'interlocutore, della sua visione della vita, dei suoi valori, ma anche delle condizioni in cui si trova ad agire. Sui segmenti chiusi i nazionalisti ostili sono il gruppo decisamente più chiuso e su questi tenderei a invitarvi a non fare nemmeno lo sforzo di una eventuale conversione. è un po' un peccato, ma diciamo che se dovessimo fare una classifica di quelli con cui dovremmo avere voglia di parlare, li possiamo tenere per ultimi perché sono sicuramente i più difficili da convertire. e quindi sono convinti in realtà che gli immigrati rappresentino essi stessi un elemento di polarizzazione e che quindi siano un vero e proprio problema. Li dipingono addirittura come minacciosi per la salute generale. È venuto fuori molto bene quest'anno durante il Covid. Abbiamo visto che c'è una compagine di nostri concittadini che è fermamente convinta che le persone straniere in qualche modo abbiano una maggiore predisposizione a contagiarsi e contagiare gli altri. Questo per esempio è molto difficile da scardinare come opinione. E quindi questi sono quelli del prima gli italiani, chiudiamo le frontiere. Noi avevamo nel questionario tantissime affermazioni. Questi sono quelli che hanno aderito convintamente a affermazioni tipo se ci fosse bisogno imbraccerei un'arma per difendere le frontiere del mio paese. Quindi diciamo persone estremamente convinte anche molto tradizionaliste nella loro visione della società. I difensori della cultura hanno un tratto diciamo meno ostile per certi versi però sono molto spaventati all'idea di perdere le cosiddette radici. Sono quelli che trovate sui social che discettano di radici cristiane tipicamente. Quindi arrivano gli altri, ci obbligano a cambiare il modo di mangiare, il modo di pregare, la religione, le nostre belle tradizioni sono quelli che si scandalizzano se non ci sono il presepe eccetera eccetera. Quindi qui l'immigrato non è un nemico ma è un diverso non integrabile semmai assimilabile. Quindi se tu straniero arrivi quello che devi fare è rinunciare alle tue radici e in qualche modo farti completamente assimilare dalla cultura italiana. Vi chiedo un secondo di pazienza. A proposito di cani, gatti e bambini suona il campanello. Veniamo ai segmenti incerti che sono quelli su cui invece possiamo pensare di lavorare. Perché? Perché portano in sé proprio delle incertezze. non sono completamente sicuri, non sono completamente granitici e portano nel loro ventaglio di valori anche dei valori positivi su cui si può pensare di fare leva. Quindi i preoccupati per la sicurezza sono circa un italiano su dieci. sono persone tendenzialmente over 30 anni con un livello di istruzione bassa e anche con occupazioni a bassa specializzazione. Queste sono persone tendenzialmente sensibili a tutte le notizie un po' morbose, un po' sensazionali. quindi l'immigrato come minaccia della sicurezza, come criminale. Questi sono grandi consumatori per esempio di tv e stasera poi con Faviana vedremo cosa succede rispetto ai media. Come i media possono formare l'opinione, come possono plasmarla. si percepiscono come persone in qualche modo esposte al pericolo e quindi l'immigrato, il rifugiato ma anche il musulmano sono una minaccia alla sicurezza personale e alla sicurezza del paese. Per esempio questi sono quelli che tipicamente sovrastimano tantissimo tutto il rischio terrorismo per un paese come l'Italia che di fatto di terrorismo soprattutto di matrice confessionale non ne ha praticamente visto mai. perché incerti? Perché quando poi da immigrazione, dai concetti generali si passa a discutere di concetti specifici e si passa al concreto sono persone che trovano che tutto questo gran parlare di migranti come di un pericolo sia a suo modo pericoloso o comunque preoccupante e sono quindi quelli che rifiutano l'etichetta di razzisti, di persone che discriminano. sono persone che per esempio potrebbero giovarsi di una più ampia conoscenza per esempio delle persone immigrate perché di fatto tutta questa paura non ha radici in un'esperienza personale, infatti solo uno su dieci conosce un immigrato. da cosa si fanno impressionare? Da questo tipo di immagini e da questo tipo di narrativa che sappiamo bene da quali tipi di stampa e di televisione arriva, quindi di immigrati come sono maschi, solo di colore, solo criminali e tendenzialmente che vanno ad affollare il nostro sistema penitenziario. Un secondo segmento più sempre incerto, diciamo quindi passibile di un'apertura e di un contatto sono quelli che abbiamo definito trascurati, devo dire che la parola inglese che abbiamo trovato è più bella perché è left behind, quindi lasciati indietro in qualche modo, sono le persone che la crisi ha più messo in difficoltà e per i quali le istituzioni non sono state in grado di fare molto, quindi sono quelli che sono stati appunto trascurati dalle istituzioni e quindi sono quelli anche più arrabbiati con i politici, con le famose elite, con gli esperti, con i globalisti. Quindi questa rabbia, questo risentimento è un po' la lente che gli fa vedere l'immigrazione. Allora l'immigrato è il nemico ma soprattutto è il concorrente, è colui che toglie dei diritti, toglie dei privilegi, quindi il mercato del lavoro, i servizi di welfare, sono quelli che ti dicono quando vai al collocamento prima fanno passare tutti gli stranieri, sono quelli che dicono sì ma nelle scuole materne prima tutte le mamme musulmane che sono a casa a far niente, vengono qui, fanno mille figli, poi chiedono ai servizi sociali gli aiuti, quindi hanno questa visione dell'immigrato un po' parassita e concorrente. In questo risentimento contro le istituzioni diciamo che il catalizzatore è l'Unione Europea, l'Unione Europea è quella che ha tradito completamente la loro fiducia. Peraltro anche qui troviamo degli atteggiamenti di possibile apertura, per esempio quando si parla di diritto all'asilo per rifugiati che fuggano da situazioni di guerra, di persecuzione, sono degli accesi sostenitori per questo tipo di diritto, come anche si fanno in qualche modo intenerire all'idea che ci siano degli immigrati che sono minorenni, piccoli e che non abbiano nessuno al mondo. Quindi non sono per una chiusura del paese to cure e sono appunto potenzialmente sensibili ad alcuni tipi di discorso. Anche qui il tema della mancata, completamente mancata connessione con le persone straniere, quindi non conoscono gli immigrati, si fidano della narrazione. Queste tendono ad essere persone un po' in là con gli anni, anche qui istruzione tendenzialmente bassa, medio-bassa e anche qui un grandissimo consumo di televisione come primaria fonte di informazione. Gli immigrati per loro appunto sono quelli che arrivano in massa e che stendono la mano a chiedere oppure, come vedete nella seconda fotografia che abbiamo scelto per rappresentarli, sono quelli che vengono a portare via il lavoro a mio figlio. Per esempio tipicamente sono quelli che ti dicono certo, arrivano gli immigrati, vanno a raccogliere pomodori, mio figlio è laureato e non trova il lavoro. Come se queste due cose in qualche modo si tenessero e fossero, come dire, fungibili nel mondo del lavoro. Ultimo segmento, li abbiamo chiamati moderati, disimpegnati, è stato il più difficile in assoluto da definire perché di fatto questi sono più che altro i fratelli spirituali dei migranti, perché questi sono giovani con alti livelli di istruzione che o stanno finendo di studiare o stanno cominciando a lavorare ma che sono in questi ultimi dieci anni venuti in contatto con un mondo che li respinge, un mondo e un tipo di politiche che hanno dato molta più importanza alla conservazione dei posti di lavoro di chi ce li ha, alla protezione in termini di welfare delle persone più anziane, quindi dei pensionati, e che ha poco pensato avere proprie politiche giovanili. Questi quindi si sentono in qualche modo fratelli per l'appunto dei migranti, non pochi di questi ragazzi hanno avuto esperienze di migrazione ovviamente non comparabili in nessun modo a quelle dei migranti che arrivano da noi ma comunque esperienze di spostamento alla ricerca di un loro futuro. Quindi potete capire a questo punto il loro distacco un po' anche per certi versi cinico, diciamo pragmatico nel migliore dei casi, cinico nel peggiore per i problemi dell'immigrazione, nel senso che non si sentono molto chiamati in causa, sono come un po' spettatori e quindi quello che l'IRA ben rappresenta è questa visione del mondo un po' cosmopolita per certi versi, questa idea di essere in un certo modo compagni di banco delle persone che migrano dagli altri paesi e però di essere anche sfidati da un difficilissimo lavoro di equilibrismo alla ricerca di un futuro che nessuno gli sta lasciando vedere. Quindi diciamo che questi tre segmenti sono quelli che in questo momento sono per certi versi più messi nuovamente e più fortemente alla prova da un anno straordinario come il 2020, perché vi faccio vedere un paio di dati sulle attese che noi abbiamo registrato quando si pensava che a fine lockdown il grosso della crisi pandemica fosse in qualche modo superato. Il senso degli italiani era che in realtà la pandemia e questa esperienza di lockdown straordinaria che qualcuno ha paragonato a una guerra, all'attacco di un nemico invisibile, non ci avrebbe così tanto migliorati. Quindi due terzi degli italiani erano certi che ci saremmo rapidamente dimenticati e che saremmo tornati ad essere i soliti simpatici nemici in casa. Quindi lo vedete qui, tutto tornerà come prima dell'emergenza. Sentimenti di rabbia, di visione ostacoleranno e rallenteranno l'uscita dalla crisi economica. Diciamo che questa domanda è superata oggi da una seconda curva di contagi, però già vedete che gli italiani non erano particolarmente ottimisti dal punto di vista del cosa impareremo dal covid, soprattutto le domande che ci facevamo noi a giugno era se questo covid avrebbe in realtà agito su vari fronti. Intanto se avrebbe messo in crisi certe posizioni populiste molto dure e molto estreme. era una nostra ipotesi che devo dire si sta abbastanza conclamando. Noi non facciamo assolutamente gli indovini, però vedevamo dei segnali di una fine, di questo atteggiamento generativo di un conflitto che avrebbe dovuto in qualche modo alimentare un consenso. Questo continuare a soffiare sul fuoco per alimentare un consenso ne vedevamo una possibile fine. Però anche un altro rischio che vedevamo era proprio il ripiegamento difensivo che abbiamo visto conclamarsi durante la crisi economica. Quindi questo prevalere di sentimenti di paura che in qualche modo non lasciavano tanto spazio alla solidarietà. Non lasciavano spazio ai sentimenti più di apertura, di sostegno verso le categorie più fragili. E l'altra cosa che a giugno, su cui ci si stava interrogando, era chi ne farà le spese. A nostro avviso, mese di giugno, tra le mille categorie fragili, donne e bambini ci sembravano quelli più esposti. Le donne, soprattutto sotto il profilo dell'occupazione, delle opportunità e di fatto con questo secondo lockdown torniamo in una situazione in cui le donne che già questa primavera avevano deciso di lasciare temporaneamente o definitivamente un lavoro, preoccuparsi dei figli a casa, troverà nuova benzina e bambini e ragazzi che con la chiusura delle scuole sono stati sicuramente e fortemente penalizzati. Dati invece di stamattina, questa è la tendenza della minaccia percepita che noi stiamo raccogliendo fin dal 13 febbraio, quando abbiamo avuto il primo sentore dell'arrivo dei contagi in Italia e che nella curva viola in basso è la minaccia percepita per me personalmente, e poi per la mia città, il mio paese e il mondo, vedete che la curva andava discendendo subito dopo il lockdown, quindi c'è stato un momento di speranza soprattutto durante l'estate e poi adesso siamo in piena ripresa di sensazione di minaccia, come anche siamo in piena ripresa di quella polarizzazione e lo vedete qui nell'ultimo dato 44 e 38, polarizzazione tra pessimisti e in qualche modo, non li chiamiamo ottimisti ma speranzosi, pessimisti quelli che dicono che il peggio deve ancora arrivare e speranzosi quelli che sperano di avere toccato il top dell'emergenza e di potere solo che migliorare andando avanti. Quindi siamo in una distribuzione di opinioni che assomiglia molto oggi 16 novembre a quella che abbiamo registrato a due settimane dall'inizio del lockdown nazionale, quindi è come se in qualche modo il film di quest'anno si fosse di colpo riavvolto e questo ci deve in ogni caso far pensare perché è importante tenere conto anche della situazione contingente in cui ci stiamo muovendo. Io ho finito, se ci sono domande molto volentieri. Sì, ne sono state fatte un paio in chat che appunto ho raccolto, a meno che Daria non voglia farla lei direttamente e nel caso Daria faccia un cenno, toglie il muto, se non sento niente la faccio io. Sì, eccomi. Mi chiedevo se quanto il sentimento di odio o comunque di preoccupazione che descriveva all'inizio della ricerca sia dovuto a veramente fattori naturali, diciamo, dovuti alla crisi economica, dovuti a tutto quello che descriveva prima e quanto invece sono stati creati dalle politiche, dalla propaganda leghista e di certa parte politica, insomma. Cioè chi è figlio di chi? Ecco. Allora, direi che la propaganda ha semplicemente colto i segnali e li ha trasformati. Cioè queste cose non si inventano, queste cose sono frutto di una attenta lettura della realtà, di un'attenta capacità di interpretare la realtà e di una, come dire, di un accorto, di una corta strategia politica. No? Quindi, diciamo, Matteo Salvini è un abile interprete di quello che l'Italia stava esprimendo, ha colto i segnali, alcuni più deboli, alcuni più decisi, ha in qualche modo fatto tesoro anche di un'eredità, di un movimento come la Lega che aveva nel tempo si era, come dire, infilata nelle crepe della forma partito tradizionale che aveva risposto alle esigenze di una base che esprimeva dei bisogni e quando la forma partito non è più stata in grado di rispondere, cioè detto in maniera molto grossolana, la Lega è l'erede del PC, no? È riuscita a entrare in qualche modo nella medesima base a proporsi come interlocutore, ascoltatore dei disagi, dei bisogni, no? Di una base e poi nel tempo e anche alla luce di questa crisi economica cogliere questi segnali, no? Di insofferenza che poi si sono trasformati in intolleranza e poi in rabbia, no? Perché poi l'escalation si può in qualche modo promuovere, no? E di fatto non ha trovato grandi anticorpi nelle sue opposizioni, non ha trovato anticorpi nei media perché con la crisi dei media tradizionali, molti media, molte testate non sono state capaci di agire quella trasformazione, no? Che il digitale ha proposto e quindi hanno anteposto degli interessi di tipo commerciale e hanno trasformato la notizia in un bene di scambio, no? Io spesso incontro i giornalisti in questi seminari in cui magari fanno degli interventi e sono loro stessi a dire ma se io propongo una buona notizia o una notizia senza il suo aspetto più morboso, più pruriginoso, è difficile che il mio caporedattore mi dica va bene, la pubblichiamo, perché non vende, no? E quindi c'è un tema anche di co-responsabilità per certi versi, però non, come dire, la Lega non si è inventata niente, cioè non possiamo dire che è colpa loro. Poi penso che Dino potrà dire moltissimo di questo, giusto? Sì, penso che parleremo di questo poi anche con Fabiana per il ruolo del giornalismo e in particolare che tipi di stile di giornalismo sull'immigrazione, che effetti hanno, c'è proprio la ricerca che hanno fatto, non solo che i stili ma anche che i formati, che effetti hanno sulla polarizzazione delle opinioni, che dibattito, che tipo di dibattito creano, una cosa che vedremo dopo. Abbiamo raccolto un'altra domanda, vi chiederei appunto, abbiamo ancora qualche minuto, poi c'è l'intervento di Rossella, magari se ci sono anche ulteriori domande le possiamo tenere per la fine, non so se Chiara riesce a seguire fino alla fine, se poi ci deve lasciare. Gabriele, Cortale chiedeva, non so se vuoi appunto, Gabriele, porla tu la domanda e così ce la puoi. Perfetto. Sì, la pongo io se possibile, grazie. Vai. Sì, sì. Ok, buonasera. Mi chiedevo, è possibile che al momento sia la destra a convincere e raccogliere maggiormente le persone che si collocano nei segmenti incerti, sfruttando quelle comuni radici di educazione cristiana che lei ci ha fatto vedere prima, che sono bene o male diffuse in tutta la popolazione e quindi creando quella retorica, noi siamo favorevoli alle persone, noi siamo sostanzialmente buoni, siamo contrari al business e ad altre costruzioni più o meno fittizi sulle quali loro appunto giocano. Grazie. Sì, ha molto senso perché di nuovo è un approccio che per certi versi semplifica e rende molto fruibile il discorso che bonifica anche l'avversione. Cioè noi non è che non vogliamo queste persone perché siamo cattivi, perché siamo razzisti. Qualcuno nella chat ha scritto non sono razzista ma, verissimo. L'anno scorso, due anni fa con Amref abbiamo fatto un bellissimo convegno che era intitolato non sono razzista ma. Nessuno di noi vuole che gli si affibbi un'etichetta negativa, ma perché ci mancherebbe? Perché è tremendo, nessuno vuole farsi chiamare razzista. E quindi tutti i ganci possibili che bonificano questa avversione e che la rendono in qualche modo digeribile. Come dire, se li facciamo venire poi finiscono sfruttati, se li facciamo venire non sappiamo dove metterli, se li facciamo venire... è evidente che sono molto semplici, molto semplificanti, ma radicano con grandissima facilità. Grazie a Chiara delle risposte. Grazie a Gabriele della domanda. Se non ci sono altre domande, io introdurrei brevemente Rossella Vignola di Osservatorio Balcani-Caucaso, che è uno dei due partner con cui stiamo portando avanti questo progetto, quindi assieme a CHILD, che è Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, e il progetto, appunto, fuori dalle bolle, ha un nome, diciamo, anche preesistente che è Winnie the Narratives, che è il nome, appunto, del progetto così come è stato finanziato da una rete di fondazioni europee. Corosella ed è anche inserito all'interno della rete d'iniziativa, appunto, di Padova, capitale europea del volontariato. Con Rossella volevo soffermarmi su un lavoro che abbiamo portato avanti, che ha portato avanti lei, anche con il nostro, diciamo, con il nostro supporto, di mappatura di queste città che vi citavo prima, quelle dove siamo riusciti ad andare fisicamente e quelle in cui, invece, non siamo riuscite, poi, per questioni legate al Covid. Perché è molto importante capire in che universo ci si muove, oltre, diciamo, a monitorare la parte media, cioè qual era stato il dibattito pubblico intorno al tema dell'immigrazione in queste città, è stata fatta anche un'analisi del contesto sociopolitico ed economico. Adesso, quindi, lei ci racconterà come qualche metodo ha utilizzato, quali sono dei principali insight, quindi dei principali punti emersi dalla sua analisi, perché credo che sia utile per un lavoro analogo che chiunque, insomma, voglia muoversi su una città specifica può portare avanti, cioè capire quali sono delle variabili delle variabili che possono essere osservate. Ovviamente si tratta di un lavoro fatto, diciamo, da noi secondo un criterio, secondo un metodo che non è paragonabile al lavoro di ricerca, di mappatura, insomma, universitaria, più accademico, fatto da Fabiana con, diciamo, l'Università Ca' Foscari e in collaborazione con Corriere della Sera nel London School of Economics di cui ci parlerà dopo, ma che comunque ha un valore, diciamo, esplorativo molto importante per andare a pensare a delle azioni sul territorio. Quindi lascerei la parola a Rossella che appunto ha una presentazione di questo lavoro di mappatura e niente, a te la parola, Rossella, grazie. Grazie Martina, buonasera a tutti, saluto e ringrazio di Goodloby, le altre relatrici e soprattutto voi che ci state seguendo. io cerco di avviare una presentazione sul mio computer e vediamo se funziona. Mi sentite bene? Benissimo. Ok. Ok, eccoci qui. Il progetto è, come ha detto giustamente, Martina, nome più ampio, si chiama Winning the Narrative, riprendersi gli spazi e costruire nuove narrazioni. Allora, abbiamo, diciamo che tutta la parte di analisi, di ricerca, di mappatura degli stakeholder che abbiamo svolto in questi sei territori che adesso andremo a vedere, ha seguito, è stata preliminare rispetto un po' alla fase di attivazione che abbiamo fatto poi con modalità diverse, soprattutto purtroppo a distanza per ragioni note. Allora, quello che siamo andati a fare per capire il terreno, per ricostruire gli ecosistemi locali, per capire il livello di interesse, il livello di alleanza, il livello di rilevanza dei vari attori territoriali nei vari contesti locali, è stata innanzitutto un'analisi del contesto attraverso una raccolta di dati che hanno riguardato l'economia, la società, la geografia politica ed elettorale degli ultimi cinque, sette, dieci anni poi a seconda dei casi e delle situazioni che non manno emergevano. Abbiamo svolto un'analisi quantitativa, un'analisi del discorso pubblico attraverso delle tecniche data-driven e attraverso una lettura e analisi dei discorsi pubblici sulla stampa, che sono emersi sulla stampa locale online. E il terzo step è stato l'identificazione di attori chiave, qui ci siamo ispirati alle metodologie cosiddette di mappatura degli stakeholder e ad altre metodologie. E abbiamo identificato quindi gli attori che posti in un continuum delle alleanze, così l'abbiamo chiamato e così adesso andremo a vedere anche le relative rappresentazioni grafiche, in questo continuum di alleanze i soggetti alleati, i vittori, quindi oppositori e gli attori neutri, ovviamente rispetto al nostro particolarissimo punto di vista. Questo è trattato della ricerca empirica che ha preparato un terreno per l'azione e quindi c'era un punto di vista soggettivo ed essere più o meno alleati rispetto agli obiettivi del nostro progetto che erano quindi appunto di andare a trovare degli spazi, delle opportunità di leva in un dato contesto locale alleandosi con attori, lavorando su certe narrazioni, cercando di capire un pubblico, un determinato pubblico locale quali core su quali corde reagisce e su quali in queste situazioni sente una certa risonanza. Le città che abbiamo studiato nel corso del 2019 in parte nel corso del 2020 sono come abbiamo detto sei siamo partiti dalla provincia autonoma di Trento in particolare dalla città di Trento dove l'Osservatorio Balcanica Ocaso Trans Europa è basato una delle più ricche province le città hanno caratteristiche diverse e delle peculiarità quindi siamo passati da Ricco e Benestante Trentino che è una tradizione solidaristica che ha coniugato istante del mondo cooperativo del mondo sociale del mondo cristiano cattolico e abbiamo poi studiato il caso di Trieste che rispetto al tema delle estemi migratorie ha un'importanza particolare perché si tratta di uno dei territori che vivono maggiormente l'impatto delle migrazioni forzate essendo un nodo importante della cosiddetta rotta balcanica della rotta migratoria che dai paesi balcanici porta le persone ad attraversare l'Italia verso il nord d'Europa abbiamo poi analizzato Padova che quest'anno è capitale europea del volontariato anche questa ci sembrava un'opportunità insomma un momento di fermento di attivazione sociale poi ovviamente anche loro hanno avuto delle grosse difficoltà perché hanno dovuto portare tutte le attività in modalità insomma da remoto online Padova che è anche una città che ha un importante tessuto sociale molto ricco un ricco capitale sociale Ferrara è la quarta città che abbiamo analizzato una provincia come sapete benissimo della regione Emilia-Romagna che aveva manifestato negli ultimi 30 anni un certo inizio di un processo di declino una certa fragilità economica Ferrara si è manifestato una fortissima nettissima affermazione della Lega nelle elezioni nel 2018 poi anche nel 2019 con il sindaco che ha portato la Lega a prendersi sindaco primo sindaco di destra di centro-destra dalla seconda guerra mondiale 20 Miglia il quinto episodio delle nostre tappe si è fermato a 20 Miglia una città di confine che è salita agli onori della cronaca proprio in virtù del tema migratorio dei conflitti con la Francia degli attraversamenti illegali dei migranti diretti per la punta in Francia di una fortissima repressione da parte delle forze politiche di destra e di sinistra nel caso di 20 Miglia episodio di importanti esempi importanti e importanti casi di criminalizzazione dei movimenti e degli attivisti che hanno offerto solidarietà ai migranti infine l'unica città del sud Bari la terza città più popolosa del Meridione in un percorso che ha una sincronicità con Trieste ma per quanto però ha sviluppato poi delle modalità diverse Bari è stata la città dello sbarco per eccellenza quello dei profughi della nave Vlora nel 1991 che è entrata un po' nell'immaginario collettivo di tutti è un po' l'emblema di quello che è lo sbarco negli stessi anni quindi negli anni 90 Trieste questa è una curiosità che è emessa facendo gli studi lo studio che abbiamo fatto negli stessi anni Trieste sviluppava a sua volta un'esperienza molto importante di accoglienza dei profughi qualche anno più tardi rispetto a Bari erano i profughi in fuga dalle guerre in ex Jugoslavia e sviluppava però Trieste diversamente da Bari che come dire ammassò i profughi come sapete che giovane forse non lo ricorda ma molti di noi ammassò i profughi nello stadio bagnandoli con gli idranti dall'alto se quindi Bari nacque la gestione emergenziale dei grandi campi a Trieste si sviluppò l'accoglienza diffusa di fatto si gettarono le prime basi di quello che poi nel tempo sarebbe diventato lo Sprada quindi tra storie molto diverse soprattutto relativamente al presente come andiamo a vedere perché sono passati 20 anni come queste città hanno reagito e come la società civile si è mossa che spazi ha avuto quanto gli spazi si sono allargati quanto invece si sono diminuiti perché per l'appunto il tema di partenza di tutto questo lavoro era quello della riduzione degli spazi d'azione noi per comprendere della società civile quindi degli attori in particolare che si occupano dei temi legati alla correnza alla solidarietà e a promuovere la visione di una società più aperta solidale e giusta società che offre pari opportunità per tutti quindi i tre fuochi del nostro lavoro andando in questi territori sono stati appunto la società civile organizzata il potere politico e i media l'interazione di queste forze ha portato in vari contesti a certi risultati che andremo adesso a vedere allora sicuramente c'è stato rispetto al tema degli spazi d'azione il restringimento degli spazi d'azione della società civile è andato di pari passo è stato preparato nel linguaggio ed è stato poi attuato nelle pratiche politiche narrazioni delle narrazioni dei legittimanti di sospetto degli attori coinvolti nella società hanno preparato il terreno poi per determinati interventi che siano di scredito delle organizzazioni non governative impegnate nei soccorsi in mare o dei soggetti che lavoravano per l'accoglienza un cambio di narrazione e quindi di pratiche che ha visto chiaramente questo lo dicono da tempo i rapporti di carta di Roma già a partire dal 2016 quando iniziava a sgritolarsi quel movimento di solidarietà che aveva investito gli anni precedenti da Lampedusa che ha coinciso con l'operazione Mare Nostrum fino all'estate dei profughi siriani 2015 fino a quel momento c'è stato effettivamente un'onda una Refugees Welcome Culture quindi di solidarietà tra l'altro che ha interessato tutta Europa da quel momento in poi dal 2016 abbiamo visto una progressiva deteriorarsi del clima dell'atmosfera che circondava il discorso pubblico sulle migrazioni questo è un dato nazionale che in Italia come dicevo ha ben evidenzato carta di Roma ma che noi abbiamo visto riprodursi in tutti i territori che abbiamo analizzato attraverso l'analisi che abbiamo condotto della stampa della stampa locale come dicevo le narrazioni non sono separate da tutto il resto perché queste narrazioni hanno anticipato e accompagnato le pratiche e le decisioni politiche questo è successo chiaramente in Trentino che è iniziata forse prima ancora della deriva che c'è stata a livello nazionale che ha coinciso con la campagna elettorale per le elezioni del 2018 e con la prima stagione del governo Conte in Trentino che è stato precursore in questo parallelamente lo stesso è avvenuto a Trieste questi territori hanno avviato prima del governo nazionale o contemporanea le prime operazioni per mantellare a livello locale i percorsi di accoglienza per tagliare fondi per gettare una luce sinistra sul mondo della cooperazione internazionale con interventi sui media di politici in particolare entrambi i territori sia il Trentino sia il Trieste hanno dei governatori della Lega a partire dal 2018 2019 quindi notiamo non solo una similitudine nei percorsi ma notiamo che la politica spinge questa è un po' una risposta alla domanda che è stata fatta da qualcuno prima la politica spinge certe narrazioni che preparano il terreno per poi mettere in atto determinate politiche questo è successo è successo sicuramente a Trento sicuramente a Trieste questa rappresentazione che un po' illustra il cambiamento di clima e le nuove parole la frequenza delle parole associate ai temi migratori nel caso in uno dei casi questa è Ventimiglia però è una tendenza che per quanto con delle variazioni si è registrata in praticamente tutti gli altri territori con una piccola eccezione per quanto riguarda Bari se vediamo il primo dei grafici quindi il primo quadrante abbiamo tre rappresentazioni grafiche su una riga e altre tre su questa riga guardiamo la prima vediamo come cala in modo significativo dopo un picco tra il 2016 e il 2017 la rappresentazione sui media della città di Ventimiglia ma ripeto questo vale anche negli altri territori con delle differenze soprattutto di ampiezza ma la tendenza è dappertutto la stessa ripeto è anche una tendenza nazionale vedete come cala la rappresentazione della tematica creativa e l'accoglienza sulla stampa locale vediamo il terzo blocco aumenta in modo parallelo e progressivo le rappresentazioni della polizia quindi di un aspetto legato alle migrazioni come è un problema di ordine di sicurezza pubblica se vediamo gli ultimi due grafici vediamo il penultimo riguarda questo centrale nella seconda riga la crescita del trend delle parole che descrivevano parlavano di migrazioni facendo un riferimento alla sicurezza e quindi parallelamente in modo speculare calava l'attenzione che sulla stampa locale avevano le iniziative di solidarietà o perlomeno l'associazione tra solidarietà e migrazioni questo era il caso di Ventimiglia quello che abbiamo appena visto il caso di Ventimiglia che è un caso particolare che ci dice in particolare di una di una problematica relativa alla polarizzazione una fortissima polarizzazione il tema migratorio è stato a Ventimiglia uno dei più trattati dalla stampa locale ha raggiunto in determinati periodi il 40% della rappresentazione quindi sul totale degli articoli pubblicati dalla stampa locale il 40% parlava di migrazioni è un dato enorme è davvero un'enormità che abbiamo visto con tale forza soltanto a Ventimiglia di tutte e sei le città analizzate e oltre ad essere molto presente il tema migratorio sulla stampa locale lo è in modo emergentale e sicuritario nel 2005-2016 ci sono stati degli digomberi ci sono stati anche degli arresti di attivisti che tra l'altro poi sono stati tutti assolti il tema ha monopolizzato l'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica lo vediamo qui vi dicevo guardate questo picco tra 2015-2016 40% degli articoli parlava di migrazioni oggi siamo ad un 10% che è comunque tantissimo e per farvi capire quanto è comunque grande questo dato guardiamo di converso l'esempio di Bari dove nel momento più alto poi i picchi le onde sono molto molto diversi e dipendono tantissimo dalla dinamica locale questo esame che abbiamo fatto è iperlocale quindi poi c'è la cornice nazionale che in effetti ha costituito una chiave di lettura generale però i singoli episodi i singoli casi locali sono molto legati ai fatti alle cose che succedono sul territorio cose super specifiche tante volte vediamo Bari che non ha mai superato il 10% ha superato sì nel 2016 di poco il 10% per attestarsi intorno al 3% oggi ecco rispetto a 20.000 vedete una grande differenza poi andremo a capire perché almeno le ipotesi hanno ragionato su alcune ipotesi che abbiamo fatto e che accomuna tutti gli episodi che abbiamo analizzato sempre tornando al caso di 20.000 che è un esempio particolare di polarizzazione vediamo come il tema queste sono le coppie di parole quindi di grammi che vengono sono state citate dalla stampa locale con riferimento ai migranti vediamo sono delle parole con parole con connotazioni fortemente negative immigrazione clandestina al primo posto emergenza migranti al secondo posto flussi migratori al terzo quindi proprio a sottolineare l'inclinazione con cui si rapproccia con cui si parlava sulla stampa del fenomeno migratorio il caso di Ferrara è esemplificativo di un'altra dinamica quello della politizzazione noi lo vediamo un po' ovunque questo caratterizza sia i casi in cui la politica ha cavalcato l'onda migratoria per trarre consensi politici è il caso della destra a Ferrara per esempio ma anche in Trentino anche a Trieste ed è vero è stato vero anche il contrario abbiamo un caso di Bai in cui la politica non ha politicizzato il tema migratorio e neanche la stampa lo ha fatto lo vedremo il caso di Ferrara quindi dimostra una serie di picchi nella modalità con cui la stampa più che nella modalità nella quantità della copertura mediatica relativa ai temi migratori i picchi corrispondono alle campagne elettorali e quindi questo vuol dire lo vediamo anche poi da un altro tipo di grafico che vi mostro subito come la narrazione di accoglienza di accoglienza e migrazioni è una cosa velocissima per organizzarsi con le tempistiche anche di Fabiana sono le 18.44 e Fabiana appunto può restare fino alle 19.30 quindi ti chiederei se è possibile appunto ovviamente non ti sto dicendo di concludere ora figurati in 5 minuti più o meno riesci ok cerco di stringere più possibile un caso di politicizzazione ci dice quello di Ferrara che come vediamo anche adesso dal grafico è stata la politica a parlare ad appropriarsi del tema migrazioni lo vediamo qui questi sono i picchi in corrispondenza delle tornate elettorali ma quello che vediamo qui in questo diagramma è che Lega Nord Alan Fabri l'attuale sindaco sono ai primi posti delle parole in questo caso dei soggetti che hanno parlato del tema migrazioni a Ferrara il caso un po' opposto unico sui sei ovviamente che abbiamo analizzato è quello di Bari anche qui vediamo noi sappiamo perché l'abbiamo visto anche con l'analisi qualitativa con le interviste che abbiamo fatto con i testimoni privilegiati con altri portatori di interesse noi sappiamo che a Bari e questo è un risultato anche evidente dall'analisi dei media che abbiamo fatto la politica non ha mai nella destra e nella sinistra in verità negli ultimi 20 anni non ha mai cavalcato il tema migratorio lo vediamo qui non c'è ma la rappresentazione sulla quantità di articoli sulla stampa locale è sempre stata bassa molto bassa rispetto agli altri casi che abbiamo visto e questo ci porta un po' a suggerirci alcune considerazioni conclusive che riguardano soprattutto il fatto che quando la politica si appropria del tema la società civile viene messa un po' in un angolo la stampa spesso si accoda e funziona da cassa di risonanza ed è questa la dinamica che abbiamo osservato una delle più interessanti l'altro dato importante poi dopo arrivo a chiudere è che in tutti i contesti che abbiamo analizzato questo è veramente curioso non è sorprendente ma è curioso vederlo in modo grafico così chiaro almeno secondo noi questo è il continuum delle alleanze posso andare avanti in tutti i casi che abbiamo visto ed è praticamente ovunque la stessa storia vediamo in questo continuum delle alleanze sulla destra abbiamo soggetti alleati diciamo all'inizio rispetto al nostro particolare punto di vista al centro abbiamo i soggetti neutri e a sinistra abbiamo gli oppositori quindi i soggetti gli attori che si oppongono alla nostra stessa visione che è quella del progetto con cui siamo partiti a favore di una società accogliente e aperta ovunque abbiamo osservato questa dinamica vedete come il campo diciamo dei nostri aliati è un campo molto popolato molto ricco molto articolato e al contrario il campo avversario è un campo un po' più rarefatto c'è la politica locale quando cavalca queste narrazioni c'è un pezzo di opinione pubblica c'è parte della stampa locale questo è vero sempre questa è Ventimiglia questa è Padova vedete come il mondo dei nostri alleati quindi il campo della società civile organizzata è particolarmente ricco e articolato eppure ed è questo un dato interessante voglio portare alla vostra attenzione eppure questi soggetti se perdono il contatto con la politica restano ai margini del discorso pubblico non solo del discorso pubblico ma restano ai margini proprio in termini di consenso politico sociale culturale vengono critati metti ai margini perdono capacità di incidere questo è il principale risultato a cui siamo giunti e la politica quindi incide fortemente sul discorso pubblico delle immigrazioni lo cavalca e quando non lo cavalca come nel caso di Bari il contesto il discorso sulle immigrazioni risulta essere molto più equilibrato e molto più bilanciato la politica perché questo ci porta alla questione della differenza enorme dello squilibrio enorme di potere tra la società civile organizzata e potere politico la politica che alloca risorte e in parte incide fortemente sull'agenda dei media come abbiamo visto può aprire o ridurre spazi d'azione della società civile può avere una società civile molto articolata ovunque nei contesti che abbiamo visto una società civile molto articolata l'Italia è sempre stato un paese che aveva possiamo dire aveva non lo so però è sempre stato un esempio di paese molto attivo dal punto di vista della partecipazione un paese di associazioni di organizzazioni un paese di volontari ma nonostante questo se la politica ti mette ai margini ti toglie le risorse ti delegittima attraverso la stampa gli spazi di azione si riducono drasticamente e rendendo la società civile organizzata e lasciandola ai margini e con minore capacità di decidere un altro tema che emerge è quindi la disintermediazione che opera la politica populista la politica della polarizzazione vedete nel campo dei nostri oppositori a sinistra dei grafici che vi ho fatto vedere prima è un campo rarefatto ci sono pochi soggetti perché qui si esplica diciamo l'azione di disintermediazione del potere populista che cerca marginalizzando i corpi intermedi quindi gli attori della società civile organizzata che cerca il contatto diretto col proprio popolo ovviamente questo è un motivo di grande preoccupazione e di fragilità perché questa dinamica non è una dinamica positiva e l'Italia a questi territori hanno visto operare questo questa problematica e l'ultimo dato con cui chiudo l'ultimo rapporto di Eurobarometro che sono i sondaggi di opinione fatti dal Parlamento europeo sul civic engagement dove l'Italia risulta un paese che si sta spostando verso zone vicine ai nostri vicini dell'est Europa del centro dell'est Europa c'è una perdita di fiducia molto molto netta in Italia rispetto alla capacità di incidere nell'azione collettiva c'è un calo di credibilità nelle organizzazioni non governative e soprattutto c'è un calo di partecipazione attiva tutto questo è legato al tema della fiducia della capacità di incidere che questo paese sembra aver perso come diceva Chiara Ferrari anche prima nella panoramica nazionale io per ora ho finito se poi ci sono domande approfondiamo più tardi grazie grazie mille Rossella ok grazie introduco brevemente Fabiana che ringrazio Fabiana Zollo che è ricercatrice dell'Università Ca' Foscari la ringrazio per aver avuto la pazienza di aspettarci siamo stati un po' lunghi e appunto Fabiana come ho detto all'inizio di questo meeting ha condotto questa ricerca assieme a Corriere della Sera London School of Economics sul giornalismo nell'era del populismo della polarizzazione analizzando intorno al tema della migrazione quali potevano essere gli stili di giornalismo più responsabili appunto se ci potevano trovare dei pattern gli stili di giornalismo più responsabili di polarizzazione quali invece lo erano meno e poi appunto dall'analisi che hanno fatto sono emesse una serie appunto di prime insight che lascerei a lei introdurre e anche perché è tanto tempo come diceva anche Fabiana che volevo avere lei o qualcuno del team di Ca' Foscari che forse li conoscete di nome studiano da un po' di tempo con ottimi risultati a livello internazionale tutto quello che riguarda il campo della disinformazione misinformation fake news e quindi insomma sono contenta di averla fra noi per poter capire di più che cosa si muove intorno a questo soprattutto anche il rapporto con il giornalismo Fabiana ti ho fatto co-host quindi dovresti essere diciamo in questo io in realtà non devo condividere nulla chiacchieriamo quindi non ho particolare perché volevo un po' raccontare che cosa abbiamo fatto ma soprattutto anche come siamo arrivati a quel come siamo arrivati a quell'esperimento quindi non ho molto da da mostrare come insomma come slide possiamo parlarne e possiamo anche insomma sono aperte anche le domande nel caso in cui qualcosa mentre parlo non sia chiara e cioè possiamo avere qualcosa di un po' più interattivo e allora sì prima cioè volevo raccontarvi un po' prima molto brevemente come siamo arrivati a quel progetto perché come Martina diceva noi sono diversi anni che studiamo appunto come l'informazione viaggia anche sulle reti sociali principalmente online ma soprattutto anche la maniera in cui cioè che ruolo ha la maniera in cui l'utente quindi noi come persone ci interfacciamo all'informazione e quello che abbiamo visto e quindi diciamo le tre cose poi che dobbiamo tenere a mente che un po' emergono dai risultati dei nostri studi ma che vanno tenute a mente nel momento in cui ci rapportiamo allo spazio informativo digitale è il fatto che come un po' è stato sicuramente già accennato prima di me le tre caratteristiche principali di questo spazio e cioè il fatto che ovviamente la disintermediazione ma in generale proprio il fatto che il contesto è molto diverso rispetto al contesto passato e quindi che non solo che l'utente e quindi il fruitore di informazioni in questo senso non è più solo un consumatore di informazioni ma può divenire produttore di informazioni e questa è una ovviamente differenza chiave perché cambia proprio la maniera e anche il rapporto fra chi comunica e come questa informazione viene dall'altro lato precipita poi c'è il discorso del fatto che questa informazione è tanta è probabilmente troppa e che quindi in qualche maniera va filtrata il filtro è qualcosa che viene applicato parzialmente già dagli stessi algoritmi e questo è qualcosa di cui possiamo sicuramente parlare ma di base è anche un filtro che applichiamo noi diciamo che e quindi qui entra in gioco tutta la sfera diciamo cognitiva e quindi quali sono appunto i processi cognitivi che determinano anche proprio appunto la maniera in cui ci interfacciamo con l'informazione e il fatto che di base quello che abbiamo visto emerge nei nostri studi è appunto che uno dei bias cognitivi più forti che sicuramente ha un ruolo nella maniera in cui selezioniamo le informazioni le interpretiamo e quindi eventualmente anche le condividiamo per esempio sui social media è sicuramente il pregiudizio di conferma quindi il fatto che cerchiamo informazioni che già in qualche maniera confermano il nostro sistema di credenze la nostra visione del mondo perché sto parlando di queste cose perché queste sono le diciamo queste caratteristiche diciamo dello spazio informativo particolarmente online poi in realtà ovviamente i pregiudizi di conferma o comunque bias cognitivi sono qualcosa che applichiamo come esseri umani nella nostra vita quotidiana però queste sono diciamo la combinazione di queste caratteristiche rende questo spazio particolarmente diciamo favorevole allo sviluppo e alla radicalizzazione di alcuni fenomeni tra cui ovviamente la polarizzazione perché il fatto di utilizzare delle piattaforme che in qualche maniera fondano il cui paradigma è proprio fondato sul fatto di cercare di fornire le informazioni che ci piacciono e che quindi in qualche maniera rafforzano quel bias cognitivo che già è attivo e quindi sicuramente questo è una cosa di cui bisogna tenere particolare attenzione perché poi abbiamo visto che essere uno dei determinanti dietro appunto alla formazione delle camere dell'eco e quindi di questi gruppi di individui fortemente polarizzati che condividono una certa visione del mondo perché questo è importante perché se poi dobbiamo cercare l'evento qui si chiama proprio fuori dalle bolle quindi mi sembra che stiamo assolutamente in tema perché se dobbiamo cercare di parlare o comunque di far parlare bolle diverse o di parlare con una bolla specifica e allora bisogna capire bene come funzionano perché nascono e che cosa si può fare e quello che abbiamo visto è che in generale l'emergenza sia delle ecocamber ma anche poi di questa fortissima polarizzazione è qualcosa che abbiamo osservato su temi diversi noi abbiamo iniziato studiando appunto focalizzandoci principalmente sulla fruizione di informazione di tipo scientifico pseudoscientifico e quindi che raccoglievano per lo pseudoscientifico intendo anche tante teorie del complotto e disinformazione insomma quindi da diversi punti di vista e quello che abbiamo visto è che in quel caso ovviamente c'era questa fortissima polarizzazione le persone decidono che tipo di fonti vogliono interfacciarsi e poi si polarizzano su uno dei due spettri questo abbiamo visto che si verifica ogni volta in cui la tematica è particolarmente polarizzante per cui abbiamo osservato le stesse dinamiche sia per paesi diversi che per tematiche diverse quindi per esempio per la Brexit o per i vaccini o per il climate change quindi ogni volta che la tematica è polarizzante questo avviene si sceglie diciamo la propria categoria di fonti di riferimento e ci si rifà solo a quelle fonti quello che però abbiamo anche visto è che in realtà questa maniera quindi di trovare la propria comfort zone online e di infilarci e di ignorare quello che è attorno in realtà abbiamo visto che funziona proprio in generale cioè noi abbiamo esaminato come gli utenti su Facebook si interfacciavano con tutte le fonti in lingua inglese e quello che abbiamo visto è che emergevano appunto spontaneamente sempre queste queste camere dell'eco cioè noi abbiamo in quello studio avevamo più di 376 milioni di utenti e una maffatura abbastanza potrei dire completa di tutte le fonti di informazione in lingua inglese disponibili su Facebook quindi se ci pensate è anche un po' paradossale che nonostante internet e il fatto che possiamo accedere ad una quantità di informazioni molto vasta e anche ad una varietà di informazioni molto elevata poi in realtà questi utenti tendevano appunto a scegliere la propria nicchia di riferimento il proprio set di pagine insomma quindi di fonti di informazione e informarsi unicamente su quelle tra l'altro in un arco di tempo piuttosto lungo un arco di tempo di sei anni quindi non in brevissimo tempo e quello che abbiamo anche osservato lì è che è il fenomeno abbiamo misurato il fenomeno dell'esposizione selettiva cioè che non soltanto si è all'interno della camera dell'eco ma che quindi insomma abbiamo già selezionato in maniera abbastanza così diretta la nostra il nostro insieme di fonti ma quello che poi succede è che queste fonti continuano ad essere selezionate per cui al crescere dell'attività dell'utente e al crescere diciamo della sua vita all'interno del nostro della nostra finestra di osservazione quello che abbiamo visto è che il numero di fonti diminuiva quindi io magari inizio ad informarmi ho le mie 20 pagine i miei 20 siti di informazione e poi dopo un po' questi diventano 3-4 quindi ovviamente questo pone un po' diciamo ci fa porre le domande anche su quanto questo sistema possa in qualche maniera favorire oppure addirittura impedire il pluralismo in una per esempio in una democrazia e quanto comunque sia importante essere consapevoli di questi nostri comportamenti che ripeto sono comportamenti che derivano proprio dalle nostre scelte e però in un sistema in cui a maggior parte delle reti sociali su queste scelte basa poi magari il proprio algoritmo per la selezione e per filtrare i contenuti allora queste scelte poi diventano determinanti anche sul tipo di informazioni che andiamo ad ottenere quindi questo era un po' quello che avevamo osservato e avevamo anche visto che nel momento in cui abbiamo anche in un altro studio cercato di capire se quando si correggeva l'informazione con le attività di debunking di fact checking queste cose qui se questa attività di correzione in realtà era efficace e per efficace quello che abbiamo misurato sono due cose e cioè il primo punto è il fatto che non abbiamo cercato di capire se arrivava ai destinatari per cui mi aspetto che un contenuto di debunking insomma creato per esempio contro non so le scie chimiche arrivi principalmente a degli utenti che sono immersi nella ecocembre pseudoscientifica e quello che il primo risultato che emergeva da quello studio è che in realtà pochissimi di questi utenti provenienti dall'ecocembre pseudoscientifica interagivano con il contenuto correttivo quindi diciamo una prima tra virgolette sconfitta è il fatto che questa sorta di dialogo fra le due camere non avveniva cioè l'utente è nella sua nella sua bolla e non interagisce ignora del tutto il contenuto al di fuori e quello che poi abbiamo misurato ancora è stato per quei pochi che invece interagivano con quei contenuti se stava funzionando e abbiamo visto e io per pochi intendo che stiamo parlando di circa 300.000 utenti su più di 9 milioni di utenti quindi capite che cioè la maggior parte degli utenti era stata già tagliata fuori non aveva non era diciamo era il target ma non veniva raggiunta per questi altri utenti abbiamo visto che in realtà non solo non funzionava ma in realtà abbiamo visto che rafforzava le opinioni di partenza quindi abbiamo misurato appunto quell'effetto quel backfire effect che è appunto un effetto di rinforzo e che si verifica quando a volte appunto si verifica quando il tentativo di correzione viene interpretato come un ulteriore tentativo di manipolazione della realtà o manipolazione dell'informazione perché vi sto raccontando questo perché il progetto che abbiamo portato avanti con il Corriere della Sera nasce un po' da queste osservazioni cioè la domanda che ci siamo posti è dato che abbiamo osservato che c'è un forte legame tra la anche tra la polarizzazione e la disinformazione come e che probabilmente insomma da un punto di vista comunicativo l'esistenza di queste bolle non permette una comunicazione efficace e quindi un dialogo e uno scambio fra punti di vista o visioni del mondo diverse cosa possiamo provare a fare per cercare di abbassarla questa polarizzazione o quantomeno di favorire un dialogo fra le bolle quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato a fare è stato abbiamo lavorato insieme con il Corriere della Sera e con la Lando School of Economics per circa un anno e mezzo e l'obiettivo era appunto cercare di capire se e come le tecniche giornalistiche e i tipi di contenuti che vengono utilizzati per raccontare una notizia possono avere un impatto nella maniera in cui queste notizie vengono poi percepite dagli utenti e quindi nel determinare insomma nel plasmare il dibattito pubblico attorno a quegli argomenti cioè l'obiettivo quindi diciamo principale è che volevamo capire se c'erano delle maniere di comunicare che potessero consentire di incrementare la fiducia degli utenti nei confronti della fonte di smorzare questa polarizzazione e di promuovere un dibattito costruttivo fra gli utenti come l'abbiamo fatto? Allora innanzitutto l'abbiamo fatto sul tema dell'immigrazione questo perché era un tema quando abbiamo iniziato è un tema piuttosto controverso il progetto è iniziato alla fine del 2017 e questo e il contesto attorno all'immigrazione soprattutto all'epoca in Italia era particolarmente direi tossico la tematica era stata portata alla ribalta lo sappiamo tutti da insomma da partiti da alcuni partiti politici per cui la trattazione proprio della tematica aveva una serie di connotazioni particolari che la rendevano particolarmente adatta ad essere studiata per cercare di capire se invece un dibattito civile anche fra persone che hanno posizioni opposte sia possibile e l'altra cosa interessante era che appunto da un punto di vista anche un po' più giornalistico la copertura mediatica della tematica era molto elevata ed è rimasta insomma il tema dell'immigrazione è rimasto al vertice dell'agenda giornalistica in Italia per moltissimo tempo nonostante in realtà non stessimo vivendo un'emergenza cioè quindi se andiamo a guardare i dati quindi su quanto si parlava di immigrazione per esempio su Facebook o su Twitter rispetto a appunto quale fosse poi il problema reale di immigrazione in Italia insomma i dati sono interessanti perché l'immigrazione si stava riducendo e di parecchio invece il dibattito sulla tematica aumentava e l'altra cosa interessante è che abbiamo visto che in realtà non soltanto c'era quindi moltissima c'erano quindi moltissime si parlava molto di immigrazione sulle fonti di informazione ma soprattutto che questa tematica interessava moltissimo gli utenti questo perché lo rimarco perché è interessante soprattutto dal punto di vista del giornalista di chi comunica non c'era magari davvero un'emergenza quindi magari non era davvero una tematica così importante da dover comunicare però è la tematica che sembra interessare moltissimo il cittadino o comunque l'utente in quel momento e quindi ci si pone si pone anche la questione di dover scegliere se comunicare su quella particolare tematica nonostante non sia magari importante e però è appunto una tematica che interessa e se non ci si comunica probabilmente semplicemente si perdono lettori o si perdono utenti questo è interessante insomma quantomeno tenerlo in considerazione perché poi ovviamente dobbiamo sempre ricordarci che anche le testate giornalistiche online e così via in ogni caso devono anche sopravvivere in questo in questo ambiente e quindi ci fa porre anche delle domande su tutto il business model dell'informazione e su come questo si debba adattare ad un sistema che è totalmente diverso rispetto al passato l'altra cosa che abbiamo notato e poi vi racconto brevemente l'esperimento e i risultati è il fatto che quando abbiamo iniziato il progetto e quindi abbiamo cominciato a studiare i dati abbiamo visto che in Italia sulla tematica dell'immigrazione avevamo osservato tre bolle principali e cioè una che potremmo identificare con dei giornali di destra una invece che si poteva identificare con il Movimento 5 Stelle e poi un'altra parte di quotidiani o comunque di testate giornalistiche che noi abbiamo definito come mainstream questo fino al giugno 2018 nel giugno 2018 si forma il governo di coalizione fra Lega e Movimento 5 Stelle e quello che abbiamo visto è che in realtà queste due è come se le bolle da tre diventano due quindi ci troviamo di fronte a una bolla mainstream e a un'altra che abbiamo definito alternativa che più o meno metteva insieme la Lega e il Movimento 5 Stelle perché ve lo dico perché questa cosa è stata molto interessante di solito le bolle sono piuttosto statiche nel tempo invece qui abbiamo osservato un cambiamento nella maniera in cui gli utenti interagivano con le fonti nell'esatto momento in cui questo cambiamento è avvenuto ai vertici nel senso a livello di governo comunque quello che abbiamo fatto noi è stato questo noi volevamo misurare appunto l'impatto l'effetto di diverse tecniche giornalistiche sulla risposta degli utenti il Corriere della Sera nel circa 5-6 mesi del progetto forse qualcosina in più ha pubblicato più di 100 storie definiamo storie sull'immigrazione le storie e le tematiche dipendevano da insomma da accadimenti dell'attualità e così via quindi sui contenuti il Corriere e i giornalisti erano assolutamente liberi di decidere quello che noi abbiamo chiesto ai giornalisti è stato di applicare cioè di provare a raccontare queste storie usando diverse tecniche le tecniche che loro hanno utilizzato le abbiamo definite all'inizio insieme e quindi c'è stato un lavoro anche un po' di ricerca nel capire quali potessero essere diverse tecniche e poi quello che abbiamo fatto è stato studiare la risposta degli utenti in termini di engagement e in termini di quindi di like commenti condivisioni e in termini di sentiment per sentiment intendo il fatto che noi avevamo i commenti a questi post e questi commenti più di 26.000 commenti li abbiamo fatti annotare manualmente da un gruppo di annotatori quindi gli annotatori hanno letto i commenti ed hanno assegnato le etichette a questi commenti le etichette servivano principalmente per tre scopi primo volevamo capire se emergeva dal commento una sfiducia nei confronti della fonte di informazione quindi in questo caso del corriere la posizione sull'immigrazione quindi se riuscivamo a capire se la persona era diciamo a favore o comunque contraria al fenomeno dell'immigrazione in Italia e il terzo elemento era la tossicità del linguaggio cioè volevamo capire se il commento conteneva linguaggio che potremmo definire volgare aggressivo rispettoso cioè quello che potremmo anche definire hate speech non necessariamente illegale però comunque diciamo la definizione che abbiamo dato è quel tipo di linguaggio che ti porterebbe ad abbandonare una conversazione nel momento in cui il tuo interlocutore dovesse applicarlo e quindi abbiamo poi analizzato tutti questi dati confrontandoli rispetto alle diverse tecniche applicate fra le tecniche per le tecniche giornalistiche applicate insomma ne abbiamo di diverse vi racconto i risultati e vi racconto un po' anche le tecniche quello che abbiamo visto è che per esempio insomma i pezzi le storie che sembravano funzionare di più erano quelle che utilizzavano erano diciamo i pezzi multimediali in cui c'era un articolo di testo che però veniva supportato da immagini o da video e che in qualche maniera appariva anche particolarmente neutro e diciamo equilibrato questo tipo di pezzi ha ottenuto un diciamo bassissimo livello di critica della fonte quindi sembra ispirare più fiducia nei confronti della fonte di informazione e ha ottenuto anche un engagement molto elevato quindi molto supporto contenuti molto condivisi nel momento in cui invece i giornalisti hanno provato ad utilizzare dei contenuti che facessero emergere i fatti o i numeri quindi per esempio infografiche o articoli data driven ma in cui quindi si spingeva moltissimo sui dati a supporto delle proprie affermazioni in questo caso invece c'era molto dibattito e molta discussione però c'era anche una opposizione molto forte da parte delle voci anti-immigrazione e una critica elevata nei confronti della fonte cioè il Corriere veniva attaccato perché magari i dati per i lettori erano dei dati che erano stati selezionati ad hoc per sostenere quella particolare quella particolare i testi quindi in realtà e questo era un po' anche qualcosa che ci diciamo ci aspettavamo anche dei risultati di cui vi parlavo prima sul debunking l'approccio di andare insomma a cercare semplicemente di confermare comunque la propria testa utilizzando dati e numeri non sembrava funzionare benissimo almeno non in questo caso quello che poi abbiamo visto è che è stato un elemento anche un po' di sorpresa è stato che una delle tecniche che avevamo definito all'inizio era quella delle human interest stories quindi quelle storie che cercavano di sensibilizzare rispetto alla tematica raccontando la storia di un gruppo di un individuo e così quindi come mai queste persone sono in Italia come ci sono arrivate che cosa hanno dovuto hanno dovuto subire per arrivare fin qua e queste storie erano state pensate dai giornalisti proprio perché avrebbero dovuto probabilmente suscitare empatia nel pubblico e quindi ci si aspettava una risposta tra virgolette positiva da parte dei lettori e invece quello che abbiamo visto è che questo tipo di storie ha suscitato una critica molto elevata nei confronti della fonte molta opposizione moltissimi commenti da parte di utenti che poniamo sullo spettro lato anti-immigrazione moltissimi commenti tossici quindi in realtà in dibattito attorno alla tematica con questo tipo di tecnica in realtà è degenerato quindi non siamo questo tipo di tecnica non è riuscito a favorire un dibattito costruttivo fra i lettori quello che ha funzionato un po' meglio è invece sono gli articoli di giornalismo costruttivo in cui si proponeva una soluzione anche pratica però comunque cioè non diciamo un po' meno l'engagement da parte degli utenti non proprio elevatissimo in generale ogni volta che un articolo includeva delle opinioni personali molto forti oppure delle proposte politiche quindi per esempio gli editoriali la critica nei confronti del Corriere era molto elevata e erano tanti commenti da parte delle voci anti-immigrazione quindi questi sono un po' i risultati che sono emersi dallo studio che ovviamente non è uno studio perfetto perché ha dei limiti dovuti al fatto che è qualcosa che abbiamo fatto anche proprio real time con i giornalisti e i contenuti dipendevano da quello che accadeva nel frattempo nel frattempo in Italia i giornalisti ovviamente erano liberi di scegliere i contenuti e hanno cercato di applicare il più possibile le tecniche però nei limiti insomma del possibile ecco non è che la stessa storia poteva essere raccontata con diverse tecniche per dieci volte al giorno quindi però è interessante perché appunto insomma quanto meno ci pone anche un po' la domanda su appunto quanto anche la maniera in cui comunichiamo poi possa impattare su come su quale possa essere la risposta e perché poi penso che sia interessante avere questo tipo di progetti in cui c'è uno scambio in questo caso appunto fra noi che insomma come accademici ci siamo occupati tanto di queste tematiche però lavorare poi fianco a fianco con chi in questo caso comunica è stato estremamente interessante io potrei mi fermare qui e se ci sono domande proviamo a rispondere sì ok no Chiara no Rossella non so se c'è tempo di rispondere non ho capito se è una domanda di Rossella o forse riporto una domanda di Chiara Rossella no scusate avevo paura che andassero via tutti quindi negli ultimi istanti in cui chiudeva Fabiana Zollo ho risposto a Chiara Tegafredo che aveva fatto una domanda per me e lo metto qui per tutti lascio a te decidere come chiudere non so se volete terminare quindi lascio a te no no e io appunto abbiamo ancora un po' di tempo perché Fabiana ha ancora dieci minuti per cui ci sono domande specifiche su quello che ha raccontato Fabiana quindi da i concetti che ha illustrato che cos'è una filter bubble ecocchamber i bias tutte queste diciamo cosette che sono poi pregiudizi se possiamo insomma tradurli in questo modo appunto sia quello di Conferma che altri e ci sono domande su questa parte diciamo più teorica che però è fondamentale per poi capire il lavoro fatto di analisi ma anche proprio sulla ricerca in sé che a me ha molto colpito quando l'ho letta perché ci sono alcune parti controintuitive soprattutto soprattutto la questione delle human interest stories no? Cioè tutte le volte uno pensa raccontare la storia personale favorisce l'empatia eccetera eccetera e poi in uno spazio come quello dei giornali online quindi che fondamentalmente è un agone pubblico in cui ci sono tante persone probabilmente tutte quelle che Chiara Ferrari ha descritto nella ricerca quindi dai nazionalista tipo a quello magari che ha posizione nel centro fluido eccetera che si incontrano queste storie che noi pensiamo magari che per tanto tempo si è pensato potessero essere quelle che creano più vicinante in realtà sono esattamente quelle che poi hanno creato una polarizzazione maggiore e quindi sì cioè è molto interessante diciamo questa parte come anche quella sul giornalismo costruttivo che offre delle soluzioni e al di là di queste mie considerazioni appunto sulla sulla ricerca in sé se qualcuno ha qualche domanda o qualche altra considerazione per Fabiana prego fatevi avanti appunto potete direttamente togliere il muto e farle altrimenti se nessuno ha domande ah sì c'è una domanda di Anna la leggo io perché appunto è sui mezzi dice chiede se la versione per le infografiche in generale per gli articoli che reclano dati potrebbe essere collegata anche all'alto tasso di analfabetismo quindi la difficoltà di un grande numero di utenti di riuscire a leggere i dati da soli post scritto un complimenti per la ricerca è davvero molto interessante quindi è una domanda molto interessante effettivamente ma io non credo non ho dati per rispondere a questa cosa qui però non credo che sia quello perché poi in realtà molte di queste dinamiche non dipendono necessariamente dal livello di educazione degli utenti anzi spesso proprio anche molte molti per esempio novax sono persone estremamente anche molto istruite quindi secondo me non è una questione di alfabetizzazione io penso sia proprio probabilmente appunto la maniera in cui si comunica di cercare di voler spiegare con numeri è probabilmente anche più semplice da attaccare mi spiego rispetto a dei articoli in cui che comunque sono articoli molto diciamo composti più neutri in cui si forniscono per esempio dei video a supporto oppure una fotografia noi ce la siamo spiegata un po' come il fatto che quello che vedi è un po' più difficile da attaccarlo e dire che non sia così poi ovviamente siamo un po' anche nell'era dei deep fake però in generale se si guarda un video è un po' più difficile per un utente reagire in maniera forte e e quindi insomma dichiarare che appunto quello che viene raccontato in quel momento non sia vero non sia affidabile nel momento in cui si danno dei dati o dei numeri sappiamo tutti che comunque anche insomma che non è che il numero il dato ci dica necessariamente le cose come stanno dipende da come viene dato da come è stato raccolto e così via per cui probabilmente anche un po' più appunto attaccabile e in qualche maniera probabilmente è questo è il fatto che o offra più sponde per oppure semplicemente che venga percepito come una un tentativo un po' così di cioè di confermare delle proprie tesi utilizzando appunto dei dati un po' facendo cherry picking perché poi nel caso soprattutto delle infografiche quello che vedeva è che c'era una forte sfiducia nei confronti della fronte della fonte e quindi mi sembra che è più questo il fatto che insomma la fonte venisse accusata di dare i dati a supporto della propria tesi ma non di dare la visione la visione completa ci sono altre domande? se non ci sono altre domande io ti chiederei come invece avete interpretato questa reazione per le human interest stories cioè questa è stata sorprendente e poi anche qui sarebbe un po' ad andarci a fondo e cercare di capire se in quel particolare caso magari cioè quel tipo di contenuto magari funziona molto per i meno polarizzati però invece scatena tantissimo la comunità di polarizzati che quindi cioè si fiondava esatto però diciamo è una cosa interessante noi ce la siamo spiegata pensando che quel tipo di racconto su una testata tra l'altro comunque giornalistica come come il corriere probabilmente viene interpretato come un tentativo di manipolazione emotiva cioè si cerca di fare appunto di di far leva sulle emozioni personali per cercare di quanto perché alla fine quello che si sta cercando di fare di sensibilizzare sulla tematica però per una persona che è dall'altro lato dello spettro e quindi magari è contraria al fenomeno dell'immigrazione probabilmente appunto viene considerato come un tentativo di manipolazione emotiva che non è basato sui fatti tra virgolette ma appunto cerchi di farmi cambiare idea raccontandomi delle storie e quindi insomma questo è stato questo è stato interessante anche perché dobbiamo anche partire dal presupposto che non necessariamente chi sta dall'altro lato magari ha le sue ragioni e anche no non quindi non ti può fare una Chiara forse sei muto Cosa e Scusami Fabiana No 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 quindi dicevo è questo cioè magari una persona può stare può avere determinate posizioni anche insomma per tutta una serie di motivazioni e di fronte a queste storie che ovviamente sono delle storie che sul piano emotivo magari possono farci un po' traballare e insomma reagiscono negativamente no? Perché si sta cercando di farle cambiare opinione sui cioè con delle storie appunto sulla base di emozioni e non sulla base di fatti a supporto Certo mi sembra molto interessante come c'è una domanda di Delia che non so se riesci a dirla tu se no la dico io No io sto leggendo se allora su cosa vuoi dire su Facebook non vedo mai le azioni di emozioni allora i commenti analizzati erano i commenti ai post di Facebook perché l'abbiamo fatto su Facebook quindi erano le notizie del Corriere scritte sulla tematica che sono state pubblicate su Facebook quindi tutte le notizie che il Corriere ha scritto sull'immigrazione che sono state pubblicate sulla pagina Facebook in realtà l'algoritmo di Facebook allora un po' ve l'ho accennato all'inizio il discorso è che un po' sembra quello che si vede è che le piattaforme in cui esistono degli algoritmi come il News Feed di Facebook quindi degli algoritmi che selezionano le informazioni e ce le filtrano in base alle nostre scelte le nostre referenze abbiamo visto che su queste piattaforme effettivamente si osserva più polarizzazione e la proliferazione di Eco Chamber rispetto invece a piattaforme in cui questo non avviene perché gli algoritmi mancano però la questione che dobbiamo tenere a mente è che appunto poi questi algoritmi si cibano delle nostre scelte quindi un po' da un lato c'è appunto quanto poi contiamo noi nell'algoritmo e questo secondo me va assolutamente considerato perché alla fine funziona in quella maniera anche perché è quello che stiamo cercando e che vogliamo e dall'altro c'è appunto il discorso che l'algoritmo nasce e comunque c'è in questo caso appunto parlo degli algoritmi di newsfeed quindi di quelli di selezione dei contenuti proprio perché l'informazione è tanta ed è troppa e quindi anche nel momento in cui se l'algoritmo non c'è cioè immaginate alla mole di informazioni non so quanti di voi erano su Facebook dieci anni fa però all'inizio gli algoritmi non c'erano era tutto estremamente si poteva tranquillamente interagire con i contenuti gli algoritmi sono arrivati nel momento in cui i contenuti sono diventati troppi e quindi alla fine la scelta della piattaforma è stata darci gli algoritmi i contenuti che ci piacciono perché in questa maniera rimaniamo probabilmente più tempo sulla piattaforma e probabilmente io penso che essere consapevole di queste dinamiche sforzarci anche noi di appunto magari ogni tanto informarci su magari fonti che ci piacciono meno o di seguire persone che la pensano diversamente da noi probabilmente potrebbe anche un po' aiutarci a uscire da queste dinamiche grazie mille sono 19.30 quindi tu so che dovevi andare siamo in perfetto orario ti ringrazio delle risposte della tua spiegazione molto chiara e molto interessante se invece c'è Chiara Ferrari e Rossella Vignola hanno ancora due minuti c'è forse una domanda a cui non abbiamo risposto quindi io Fabiana ti saluto grazie grazie per l'invito a presto alla prossima grazie ancora grazie arrivederci ciao a tutti allora c'era una domanda appunto di Chiara Segafredo che appunto se ancora fra noi scusate sembra brutto sembra ancora fra noi se ancora qui presente diciamo nella in questa riunione la può dire lei altrimenti la leggo io non la vedo Chiara si la vedo si ok la domanda secondo me è probabilmente potrebbe essere indirizzata sia a Chiara Ferrari che a Rossella perché parla appunto ah no scusate quindi questa è una domanda ma ce n'è un'altra ancora che mi sembra che prima fosse spuggita se qualcuno ha posto una domanda quindi non abbiamo ancora risposto ti prego Martina ti aiuto un attimo e la domanda di Chiara Segafredo era rivolta a me non so se è scomparsa ma no no c'è ancora non riesco più a trovare qui nella nella chat e chiedeva che cosa può fare la società civile posso parlare? certo mi sentite? sì sì forte e chiaro ok chiedeva che cosa può fare della società civile quando viene messa ai margini che è un po' quella la dinamica che abbiamo osservato nei nostri territori e io rispondevo ovviamente qui non è facile trovare una soluzione trovare una risposta la società civile organizzata deve rimanere strettamente connessa ai propri territori alle proprie persone continuare a lavorare appunto con le persone continuare ad essere rilevante qualizzarsi il più possibile costruire alleanze anche a livello transnazionale ci sono degli spazi di azione di attivazione delle leve che si possono usare a volte sono le istituzioni europee che ci danno una mano o possiamo metterci in rete con altre organizzazioni in altri contesti europei nello spazio europeo le dinamiche sono simili stanno convergendo quindi i problemi sono comuni e spesso possiamo trovare fuori delle sponde quindi radicarci sul territorio qualizzarci il più possibile sfruttare le leve transnazionali anche se è complesso e dove è possibile continuare a fare massa critica e agire cercare di agire influenzare la politica condizionare il potere politico grazie mille Rossella c'è un'altra domanda per Chiara Ferrari poi se non ce ne sono altre vi ringrazio tutti per la paziente siamo andati un po' lunghi però i contenuti erano tanti e tutti molto importanti appunto per capire meglio avere un pochino più di informazioni di dati a disposizione per poi andare a fare quel lavoro appunto di costruzione della narrative che imposteremo più nel dettaglio dal prossimo workshop Manuela la vuoi dire tu la domanda o se invece non puoi parlare la appunto Chiara la legge o la leggo io sì buonasera sì io pensavo insomma quello che diceva Chiara Ferrari su due delle categorie no che erano i cattolici umanitari e cosmopolitiche avevano questa visione ottimista di una certezza avevano una certezza della loro posizione una visione ottimista del mondo e negli ultimi settimane ho letto un po' di analisi insomma sul futuro che purtroppo questa pandemia potrà portare ovvero che questa certezza non è più così garantita e che spesso la disuguaglianza che si sta un po' spostando su altri modi insomma magari chi ha il lavoro chi non ce l'ha all'interno proprio della stessa classe sociale e quindi mi chiedevo se questo magari verrà preso in considerazione anche nel modo in cui aumenterà questa incertezza questa minaccia e anche la percezione degli immigrati ecco non so se è chiara la... sì sì chiarissima in effetti la frattura tra cosiddetti garantiti e non garantiti sarà una delle fratture che si acquirà era molto interessante onestamente anche se drammatica però per me onestamente molto interessante si acquirà questa questa frattura e sicuramente rimetterà sul tavolo alcune alcune questioni vero è che come dicevo all'inizio c'è un tema di valori quindi è evidente che per certi versi chi è più riparato più a caldo ha maggiore facilità però non facciamo l'equazione che si tende a fare un po' in maniera un po' grossolana che se benestante allora poi hai anche una visione del mondo più aperta perché per esempio tra i nazionalisti ostili noi abbiamo delle condizioni anche di reddito e di condizione lavorativa proprio garantita lì è un tema di valori allora i valori non li cambia il covid quindi resterà certo ci saranno soprattutto nel centro fluido nella parte incerta chi si troverà con meno strumenti per supportare una conversione verso sentimenti più di apertura perché vedrà minacciati magari quei pochi leggi che è riuscito a difendere tenzi conto che l'autocollocazione in quella che si chiama grossolanamente la classe media negli ultimi anni è andata sfarinandosi cioè se volete la piramide che va dai più poveri alla classe più benestante una piramide che sta allargando tantissimo la base come potete immaginare prima per effetto appunto della crisi economica adesso anche per effetto del covid e quindi sicuramente la classe media va diciamo scomparendo un po' grosso da dire però insomma va assottigliandosi moltissimo ed era una classe media che aveva si era abituata insomma a determinati stili di vita a determinati privilegi che adesso vede messi in pericolo questo sicuramente acquirà certe acquirà delle disuguaglianze e metterà anche a disposizione di chi vuole di nuovo utilizzare la propaganda per l'alimentazione del consenso metterà a disposizione delle tematiche ecco perché una visione diciamo brevitermista di politiche nazionali per la ripresa eccetera sarebbe fatale ed è per questo che ho sentito tanti notisti tanti opinionisti sollecitare il governo affinché pensi a misure di medio e di lungo cioè avere riforme che sappiamo che sono come dire difficili che non sono che non portano consenso politico che spesso all'inizio sono dolorose però sarebbero come dire la strada per poi riuscire a compattare il paese grazie grazie mille grazie a tutti se non ci sono altre domande io volevo ringraziare anche il centro servizi Padova Solidale appunto perché questo evento è stato fatto in collaborazione anche col percorso che dicevo Padova Capitale Europeo del Volontariato vi ringrazio per la pazienza ma anche per l'interattività perché avete fatto diciamo molte domande anche molto diciamo sul punto dandoci la possibilità di approfondire i temi vi rimando per lo sviluppo di questo percorso ai prossimi appuntamenti appunto abbiamo detto che il prossimo sarà con Dino Menduni Marika Surace più su come si comincia come si pensa cosa si deve tenere in considerazione quando si costruisce un messaggio pensato per queste parti del centro fluido qual è il frame quali sono gli schemi ambientali perché è importante tenere in considerazione e questa presentazione del toolkit di strumenti per costruire appunto un percorso di narrative pensate proprio per rivolgersi a questi a questi gruppi andremo magari anche a cominciare a capire quali sono magari i valori di alcune di queste categorie che Chiara ha indicato e Rossella appunto prima grazie quando hai risposto e scritto in chat per rispondere a una delle vostre domande non mi ricordo più di Chiara perdonatemi però anche cosa può fare la società civile nel terzo workshop parleremo di community organizing che è una tecnica di stampo americano che però ha veramente tanto da dare anche in Italia perché si fonda proprio sulla creazione di reti di comunità di leadership diffusa dove per leadership non si intende la persona da sola al comando ma esattamente il contrario la capacità di ognuno di noi di trasferire una parte appunto di individuare altre persone che sono in grado appunto di mobilitarsi e a loro volta moltiplicare lo sforzo verso un obiettivo condiviso adesso senza entrare troppo nel dettaglio poi avremo Diego Galli che è proprio il fondatore dell'associazione community organizing che ce ne parlerà e poi avremo anche appunto questa organizzazione inglese che si chiama Hope Not Hate che ha fatto proprio un lavoro su questo e su comunità locali anche su casi studio molto interessanti in particolare c'era in Ballola questo segno di una moschè in una cittadina inglese di cui non ricordo adesso il nome hanno fatto proprio un lavoro molto importante molto profondo sulla comunità per creare consenso intorno a quella che potrebbe essere una scelta percepita come divisiva e niente grazie davvero a tutti sono le 8 meno 20 quindi vi lascio andare a cena è veramente stato un piacere e spero che sarete tutti con noi appunto lunedì prossimo grazie mattina buona serata ciao vi mandiamo tutti i materiali come promesso in chat grazie arrivederci buona serata ciao 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 alla prossima alla prossima adesso quando stacco io stacco tutti ciao